Benvenuti in un nuovo video! Ebbene sì, siamo qui con la De Gustavox di dicembre Ce l'abbiamo fatta, non avete visto l'appuntamento della box di novembre Perché praticamente, io ovviamente come sempre tutti i mesi sono abbonata Quindi il pagamento è stato erogato Ma la box non ci è mai arrivata, ovviamente non da parte dell'azienda Il Corriere ha fatto un casino Ovviamente era SDA, non voglio dire niente però Ogni volta che ho un po' le poste, un po' si sa Quindi niente Quindi ovviamente la seconda non ce l'hanno fatta pagare Perché è andata un po' ad attutire il colpo nostro di novembre Non l'ho vista quella di novembre Perché non ci volevo rimanerci male, non volevo rimanerci male Però questa di dicembre io la vedo troppo leggera Troppo leggera Quindi io direi di aprirla Cioè per concludere l'anno penso che... Ma ho paura E ti dirò Secondo me Non ci saranno cose pesanti Cioè non ci saranno cose di vetro Decisione di dividere queste cose qua Vediamo Allora la prima cosa che pesco l'oro ovunque Sono queste fette al forno e croccanti Quindi decregers con i semi di zucca Non è nessuna novità Non è zucca, è girasole Scusate, i semi di girasole Non è nessuna novità perché questi escono spesso Velazze Prego Fasted caramel Fasted caramel che già è uscito Cioè già l'abbiamo provato E noi l'abbiamo già provati Però schiziosa come idea È andata all'interno di qualche stanza E quest'anno siamo due due fane insieme Poi Oh Della Perlari Zanzibar Un corte di nocciola Con granella di caramello Sarà tutto in questa box Sarà tutta così Sì Con granella di caramello croccante A due nocciole intere Secondo me È buono Ovviamente se riusciamo Come facciamo anche un viassaggio Andiamo avanti Quello che ami Fruitella In trecci più allegri Con succo di frutta Trago la tre Trago Comunque queste cose così Che non vado a fare Va bene io le amo Poi No mi prego Non mi amare Crostini Crostino dorato Con faglio Crostino integrale Mi ricordo com'era Ricco di fibre Il marchio Sansepolcro No dai No Non l'accetto Non l'accetto Ragà Non l'accetto Mi prego Andiamo avanti Ti dico già Che sto quasi terminando Guardate Un tramzzini Come sempre Morato Morato Questo va bene Per gli aperitif Questi qua Diremo a mamma Tieni mamma Te l'abbiamo preso Ancora No ma sono seri Cioè questa è una collezione vecchia No no Questo è sempre così Cioè la fa sempre così Sì Dolce Gabbana Cioè Dolce Gabbana Eh scusate Linguine Eh scusate Eh in collaborazione con Dolce Gabbana Ah ok Infatti sì Allora sì Già ti ricordi Sì Allora non è che noi non siamo soddisfatti ovviamente di questa box Perché se è la prima box Che prendete allora ci sa Ma chi come noi ha questo abbonamento da quasi due anni Cioè vi possiamo dire che non è ancora finita Ci sono ancora 3-4 prodotti Ma non è una tra le più belle Cioè per me dicembre Io mi aspetto qualcosa di wow Anche perché noi abbiamo preso il calendario Qualcosa da mettere anche nel cenone Dico qualcosa Qualche idea Qualche Dico noi abbiamo preso il calendario dell'avvento Ma questo non c'entra niente Perché metti caso che non l'ha preso Ma no Cioè ok manco il calendario dell'avvento Chissà quante cose natalizie Oppure quante cose proprio a te Però Queste costini No Io L'abbiamo già provato Questi eh Sì 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 Crisby Vegan Gianduia Abbiamo già provato Questi sono vegan Ok Questi mi sembrano la di che Poi Non ci credo Oh questa non l'abbiamo provata Oh sì Sì l'abbiamo provata Harry Potter Tasto rosso L'incantesimo Dei pop corn Caramellati Se vi siete persi il video Con Harry Potter Andatevelo a vedere Ci posso credere Era uscito pure nella Nella bustina di plastica Knorr Brodo granulare vegetale Non ci credo E questo è per ribellarti dopo le feste Distribuire direttamente sulle pietanze durante la cottura Oppure per il brodo Ah si può utilizzare pure per Questa sia Questa deve lì Salsa rosa Ma c'è qualcosa lì Sì raggia È piccante Piccante? Secondo me sì Leggermente piccante dice qua Però mamma potrebbe fare a Natale Il cocktail con i gamberetti Eh ma chi sa questa come? Però no per tutti Solo per tipo loro Tipo papà per piccante Secondo me sì C'è forse un peperoncino Un piatto Questo sriraccia Rosa È una salsa chili A base di peperoncini Aceto bianco Come il tappasto Diciamo Ok Comunque piccante Concludiamo così la box Con un po' di amore in bocca Perché sinceramente Mi aspettavo qualcosa Per 16 euro Oddio sono tutti i prodotti Che alla fine costano Assolutamente Però Non lo so Non mi aspettavo Ci aspettavamo Quel po' di Natale in più E niente E questo è Vabbè Questo è Ne vediamo Appuntamento Con la te gusta box A gennaio Ma che ansia Quindi Speriamo che questo video Vi sia piaciuto E ne ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao